Qui, io ho parlato della Brigata Grassi, qui proprio in questa cucina c'erano gli sfollati di Trento, dalla città di Trento sono andati via, e che abitava qui, era l'onorevole Pares, che era capitano dei partiziani in Val di Nord. Cosa è successo? Qui Paris aveva la sua famiglia, la moglie, quei figli e una sorella che a Trento ci sono ancora una tipografia saturnia, era di sua proprietà. Comunque questo capitano dei partiziani in Val di Nord, l'onorevole Paris, quella sera quando è passata la SS che ha fatto il disastro, lui la mattina è arrivato qui perché i partiziani che c'erano qui, a Musana, il paesino prima qui, c'erano una valle prima del paese, avevano messo la dinamite sotto il ponte della valle per far saltare il ponte di modo che la SS non voglia, non ha più passata. L'onorevole Paris è venuto qui e gli ha detto ai partiziani qui alla Brigata Granse, voi non fate niente, voi non fate nulla, lasciate andare la SS a Cavalese perché sennò vi bruciano il paese, guarda voi se toccate qualche cosa. E allora i partiziani non hanno toccato niente, la SS è passata, si è fermata, l'ho spiegato sul libro, è stata via casa mia e queste cose, e poi è andata avanti e vedi che a Molina e a strumenti i partiziani ti voleva affermare che abbrirà i paesi. Ecco perché qui non hanno fatto niente, sempre per la parola dell'onorevole Paris, che era qui sforato. Dopo che il comando dei tedeschi che toglie la Brigata Granse, che dopo che dichi è Nadia Mehan, dopo una camionetta dei tedeschi che gli indichi a fare in giro, perché io anche le so amanti di rete, no? Gli indichi qua da me e ha fatto in giro, i partiziani li lasco perché esiste due tra l'edificio con la camionetta, e sul ponte che prima di arrivare in paese ha paruto. Il partiziano si ha piazzato sul ponte, e con che la venivamo fuori a garbarla dentro la camionetta, e la coppia l'autista veniva da sbattere contro il nore, dove fa la curva. e come ci si è stato fatto, i tedeschi dovevano, si vede chi ha telefonato. Io gli indico a Massa, guarda, con il vitro del prestato di baraccio per il paese. E' la prima casa che fa un ricato a fuoco, e l'ha bruciata, completamente. E noi questo fatto mi hanno detto, fosse il frameo e il partiziano a salinare a casa che i miei suoi ragazzi a fanno.